Come tutti gli sport anche il tiro con l'arco ha dei caratteri fondamentali i quali vanno conosciuti e vanno ben compresi e vanno ripetuti e uno per uno va ahimè assimilato e addestrato. Sui libri questi fondamentali normalmente sono descritti come la sequenza di tiro e adesso parleremo della sequenza di tiro quindi tutta la sequenza di tiro da quando prendo la freccia fa parte dei caratteri fondamentali invece ci sono dei caratteri ineluttabili con qualsiasi tipo di arco io le leggo equilibrio statico equilibrio dinamico allineamento e contatti espansione ritmo e decisione l'equilibrio statico è molto semplice non c'è una posizione migliore che quella di un equilibrio statico forte no come si dice i piedi devono essere radici come radici nel terreno non c'è una posizione migliore di quella statica che abbiamo normalmente come nostra postura normale quindi piedi leggermente divaricati all'altezza delle spalle spalle rilassate questa è la postura migliore che possiamo attuare nel tiro con l'arco perché è la postura più facilmente ripetibile quindi già la partenza ricordatevi che l'arco essendo uno sport di gestrezza dobbiamo sempre fare le stesse cose a partire dalla posizione iniziale quindi anche come prendo le frecce devo sempre prendere nello stesso identico modo anche la posizione iniziale deve essere sempre uguale e qual è la posizione migliore per da ottenere è quella più confortevole naturale molto bene e così anche all'approccio al bersaglio ma voi mi dite ma noi siamo sempre nei boschi e tutto c'è la pietra c'è il tronco c'è no al limite vedremo che la posizione migliore la postura migliore per i tiri di campagna è a piedi uniti è già qua vi si sono accese le antenne meno male sono contento per avervi detto una cosa che non conoscevate o comunque reputevate ininfluente o comunque non equilibrante invece io vi dimostrerò che la posizione a piedi uniti è la posizione migliore per ottenere più equilibrio e lo vedremo oggi pomeriggio che faremo delle prove pratiche ok del contrario io sono proprio qua apposta perché se io venissi qua a dirvi le cose che voi eravate convinti non avrei fatto il mio dovere ricordatevi che il mio dovere è quello di mettere dei dubbi non delle certezze ma sono i dubbi che fanno crescere non le certezze ricordatevi sempre i dubbi fanno crescere le certezze no la posizione migliore nel tiro di campagna la posizione questo è non è una tesi è un postulato una legge la posizione migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti la posizione migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti e vedremo perché quindi l'equilibrio statico migliore nel tiro di campagna è a piedi uniti lasciamo le spiegazioni a oggi pomeriggio equilibrio dinamico l'equilibrio dinamico è il punto focale di qualsiasi tiro qual è l'equilibrio dinamico l'equilibrio dinamico è lo stato di equilibrio delle forze una volta raggiunta l'energia elastica potenziale massima quindi l'equilibrio dinamico è questo in questo momento io devo essere in equilibrio dinamico e ci rifacciamo a tutto quello che abbiamo detto prima sul forza resistente e forza ritrazione due vettori contrapposti al rilascio i due vettori devono risultare contrapposti e vedremo comunque cosa capita al rilascio ovviamente allineamento e contatti sono l'espressione dell'equilibrio dinamico una volta raggiunto l'equilibrio dinamico allineamento e contatti devono essere identici contatti sulla grip contatti al viso quindi la grip sempre nella posizione identica qual è la posizione migliore della grip? la posizione migliore della grip è quella che crea meno torsione qualunque tipo di arco sia l'avete visto i compound? i compound hanno una strisciolina finissima perché? perché meno area hanno a disposizione meno area meno possibilità di torsione dove effettivamente li conta tantissimo nel ricurvo tradizionale e nel lombò ovviamente molto meno perché già lo strumento è meno preciso nell'arco nudo e negli archi che hanno una grip comfort la condizione ottimale è questa qua nocche a 45 gradi vedete le nocche sono a 45 gradi permettono di avere il punto di spinta in questa posizione fuori dalla linea della vita da questa posizione qua quindi in questa posizione ok? questa è la posizione ottimale perché questa è la posizione ottimale? perché questa posizione permette di contrapporre il braccio dell'arco con l'osso radio e l'osso omero quindi di avere una contrapposizione scheletrica ok? se io lo avessi dentro lo avrei solo sul nulla o comunque potrebbero passare da una parte all'altra e non sarei confortevole uno due alzerei questo muscolo sollevatore della scapola che a lungo andare potrebbe portarmi infiammazione in questo modo qua anche senza intra ruotare la spalla lo vediamo comunque dopo io ho una condizione ottimale di tiro chiudono l'espansione non avete sentito parlare perché io ho letto più volte molto interessante perché mi ha fatto capire tante cose interessanti ho letto più volte il libro scritto da ferrario e l'altro astrofisico l'unico manuale che vi ha dato la FIA è quello si con un barone io l'ho letto più volte io l'ho letto più volte perché dice tutte cose giuste tutte cose giuste ovviamente riprese da altre pubblicazioni sono tutte cose sensate e tutte cose non opinabili quindi niente da dire su quel manuale dice tutte cose abbastanza scientifiche espansione sui piani perché espansione sui piani quando io sono in equilibrio dinamico contatti al viso e vedremo qual è l'ancoraggio migliore comunque i contatti migliori al viso grip contatti al viso sono in equilibrio dinamico a questo punto devo per forza avere un'espansione un'espansione sui piani un'espansione sui piani vuol dire mantenere la stessa forza di resistenza di trazione fino al rilascio cioè praticamente non cedere ma non solo non cedere di allungo ma non cedere in un'angolazione che non sia quei due vettori contrapposti mantenere l'equilibrio dinamico quindi il mantenimento dell'equilibrio dinamico questo equilibrio dinamico ovviamente si ottiene solamente se io scaricherò il bicipite e porterò sui muscoli dorsali la forza del tiro a questo punto posso rilasciare quindi portare da questa muscolatura del toide tricipite a il muscolo dorsale come mi accorgo che utilizzo i muscoli dorsali dal movimento della scapola la scapola è un osso ma viene mosso in un determinato modo e lo vedremo con le prove pratiche e anche come muoverlo dai muscoli più importanti è un'operazione semplice? no, non è un'operazione semplice perché non è un'operazione semplice? perché tutti i muscoli del nostro corpo hanno muscoli antagonisti e agonisti ad esempio il bicipite è antagonista del tricipite il bicipite serve per fare questo movimento il tricipite serve per fare questo movimento e siamo bravissimi a rilassare il bicipite quando facciamo così e a rilassare il tricipite quando facciamo così lo facciamo ma senza pensarci ed è un'operazione difficilissima proviamo a tenerle tutte e due tesi ecco che comincia a tremare e sentiamo male un po' dappertutto la stessa cosa vale per i muscoli dorsali perché i muscoli dorsali quando li adoperiamo per tirare sul sacco di pellet tutti insieme per tirare su le borse della spesa o le borse della bottiglia dell'acqua utilizziamo agonisti e antagonisti contemporaneamente quindi non siamo mai stati in grado di discernere i muscoli agonisti da quelli che effettivamente vogliamo adoperare quindi noi vogliamo adoperare trapezio e romboide per poter far abbassare la scapola e trasferire da tricipite a muscoli dorsali parte della forza di trazione ma non riusciamo a farlo non riusciamo a farlo perché i muscoli agonisti di questi due ce lo impediscono e non siamo in grado di rilassare i muscoli agonisti che impediscono al trapezio e al romboide di operare come si dovrebbe l'ho detto senza virgole un colpo solo cioè lo spostamento della scapola dovrebbe essere come il rilascio del compound nel senso che quando mi da l'idea che tutto è a posto certo mi da la conferma che tutto è a posto allora vieni qua che te lo faccio sentire te lo faccio sentire io metti la mano aperta di qua qua metti la mano aperta sotto la mia scapola no 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 così allora normalmente quando si tira tirate tutti così voi della Fiat ho detto una cazzata vero? si allora così ok muaaaa 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 invece dovreste fare così descrivi ai tuoi colleghi cosa hai sentito prima e dopo beh prima niente prima niente poi c'è un rigonfiamento sotto rifacciamo rifacciamo così lo faccio vedere ma scusa allora il tiro solo di tricipite è quello così miro 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 via non ho il tempo di poterlo fare adesso vedremo che solamente quando il gomito è a 90 gradi io riesco a innescare la scapola quindi io andrò in questa posizione e già innesco i muscoli dorsali ok e a questo punto mi aiuto nella trazione chiudo il muscolo dorsale e rilascio e sono perfettamente in equilibrio di mano comunque lo vedremo in pratica per ognuno di voi come fare e come anche insegnare a fare che ahimè è la cosa più difficile ma è essenziale perché è fondamentale per poter mettere in linea i due vettori in espansione io l'espansione ce l'ho in questo modo qua no? sono in questa posizione sapete che nell'arceria moderna non c'è più la pretrazione una volta cosa si diceva la pretrazione era un passaggio della linea del si metteva così boh non so cosa si pensava e poi si andava in ancoraggio si mirava e si rilasciava ora se guardate tutti i filmati anche dell'arco olimpico si va si si va direttamente in ancoraggio quindi è tutta una preparazione comunque molto veloce sono in questa posizione qua sono già con i muscoli pronti ancoraggio ora sono devo affinare l'equilibrio dinamico come lo affino? con l'espansione sui piani di espansione mentale e interna dei muscoli d'orzali e rilascio il braccio che tieni là può portare leggermente no ma non c'è bisogno non c'è bisogno non possiamo fare esattamente quello che fa l'arco olimpico purtroppo sia i manuali sia le guide che anche la disposizione mentale dell'istruzione è portata a quello che è l'arco olimpico che può fare certe cose perché è stabilizzata e soprattutto perché i grandi campioni che adottano queste tecniche lo fanno 8 ore al giorno e sono strutturalmente appropriati a fare determinate azioni che per noi non solo sono impossibili ma molto spesso sono delle temi come l'intrarotazione della spalla per poter mettere la schiena non in linea ma in linea con questo braccio qua quindi spostata devo leggermente rintrarotare la spalla e assolutamente non lo posso fare né con l'arco nudo né con l'arco delizionale né con l'ombò non è proprio possibile io posso accennare e vedremo un corretto equilibrio dinamico che ce l'ho solamente scaricando il tricipite il più possibile sui muscoli dorsali quindi l'allineamento che io posso fare è questo il massimo del mio allineamento la schiena dritta quello che intendevo io adesso tu sei non sei allineato vediamolo con l'arco sei proprio dritto sei leggermente con la mano davanti sotto il visuale dell'occhio o no? si se non sono proprio dritto qui che vado proprio anche se sgancio male vado prendermi dentro no 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 non puoi fare perché se no dovresti trovare leggermente alla spalla ma non puoi farlo e per forza metterti in questo modo qua e poi allinearti dopo e vedremo anche il braccio come dovrà essere quando fai provare le sangre così vedi ti capita la persona che si prende sempre dentro nell'avambraccio che cosa devi guardare? l'extra rotazione del polso la posizione lì hai poco tempo ma normalmente tirano sulla spalla ma anche non girato si portano in questa posizione guarda che posizione sono sono in questa posizione si e quando li guardano ma deve essere in questa posizione deve essere in questa posizione si ma facciamolo tenere questo braccio questa è un è un fondamentale della danza classica muovere il braccio senza muovere la spalla così si non c'è niente proprio niente proprio tutto leggermente flesso bravissimo leggermente flesso il braccio va disteso ma non bloccato però io a volte quando impugno l'arco faccio questa rotazione qui che mi tiene un pezzo è logico che è meglio un braccio bello rigido un po' ruotato però lo possono fare gli archi olimpici gli archi compound l'arco tradizionale non è conveniente ah ah non fossilizziamoci mai lo dico da uomo fit arco non ci dobbiamo fossilizzare da quello che come ce la raccontano nell'arco nudo nell'arco tradizionale non boh noi funzioni quindi leggermente flesso leggermente flesso leggermente flesso guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda la posizione della mano quella lì fa tantissimo per non prendersi dentro cambia da così io ho avuto un arco libico si anche perché poi prendendo qua non ti puoi prendere dentro perché l'arco ti passa poi ho un arco libico io so così sono perfettamente in equilibrio per motivi di ruolo poi per carità magari l'arco una volta uscita la freccia ma quando la freccia è qua io posso ballare la tarantella si diciamo che l'arco gira quando tu lo impugni anche troppo lo prendi adesso poi vediamo i tiri vi faccio vedere i tiri esattamente